Passiamo ora alla prossima notizia. Il draghetto dell'ENI si lecca ai baffi. Secondo i dati pubblicati dal Corriere della Sera, solamente nel primo semestre del 2022 l'utile netto di ENI è passato dai 1.103 ai 7.398 milioni di euro rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. Gli utili volano quasi del 700% ed aspettandogli ancora più succulenti dati del secondo semestre 2022 l'ENI si prepara a festeggiare aggiornando il suo storico logo rendendolo più accattivante e vicino alle persone. Il legame tra i cittadini e l'azienda diviene oramai indissolubile. La gloriosa fiamma dell'iconico draghetto a sei zampe non sarà l'unica cosa a bruciare nel futuro degli italiani. Ora una piccola interruzione pubblicitaria e torniamo tra qualche minuto.